e allora tutti raga benvenuti in un nuovo video sulle ricordi e parliamo della ferragni chiara chiaretta ferragni che ne è combinata un'altra delle sue l'acqua e i bianni e si targata chiara ferragni e costa 8 euro ma io non lo so io vado sul mercato con una bottiglia d'acqua da un euro massimo un euro 50 ma non di più però qua arrivo a esagerare 8 euro l'acqua e via non esiste proprio dai è chiara chiara cosa non si fa per soldi ti fai soldi anche come dire quando va in bagno pulisce il culetto apposta della carta igienica usi due soldi proprio pure l'aria che respira cioè pure l'aria che respiri non viene a costare tanto tutto quello che toghi diventa oro cioè ti rendi conto c'è gente che deve comprare l'acqua e via non so perché il targata chiara ferragni ma io non ci credo c'è gente che va al bar con un euro con un euro a due euro massimo si prende una bottiglia d'acqua c'è gente che veramente si può neanche permettere una bottiglia d'acqua arrivi te la regina dei clown del circo alle 8 euro da l'acqua e via noi sono disgustato per questa cosa perché non sembra sbagliata la c'è gente che veramente non arriva a prendere l'acqua a sto punto sai che facciamo andiamo tutti a prendere l'acqua nelle fontane andiamo a bere nelle fontane facciamo prima a sto punto sto punto facciamo prima andiamo a bere nelle fontane e spagniamo soldi per non buttare soldi così all'acqua e via che se no veramente fanno tutti così ciao pure l'aria che respira quanto viene a costare non lo so 10 euro non lo so prende anche un esempio una caramella prende butta la carta diventa oro c'è tutto quello che tocca a chiara ferragni diventa oro così ma non ho parole non ho parole pure questa pinza guarda c'è io l'ho pagata 5 euro al mercato 5 euro al mercato l'ho pagato questa pinza pensa un po' te è chiaretta 5 euro al mercato per questa pinza gigante e vabbè in conclusione raga chi vuole comprare l'acqua avian taggata chiara ferragni bisogna spendere 8 euro che pure l'aria che respira diventa oro con tutto quello che tocca a chiara ferragni diventa oro veditemi un po' se è giusto così non ho parole non ho parole uno schifo il più totale tutto quello taggato a chiara ferragni costa oro vabbè oh boy il video è finito qua fatemi sapere poi cosa ne pensate fatemi sapere la vostra opinione nei commenti qua sotto come sempre trovate il link in descrizione e l'info box facebook twitter instagram music lasciate un like e iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto e come sempre ragazzi vediamo nel prossimo video bagazzo sui ricordi ciao e alla prossima ciao